Buonasera a tutti, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento come ogni lunedì sera con Basket Time, a dire il vero torniamo dopo una settimana di pausa, ma la scorsa era la settimana paliesca e quindi abbiamo preso un lunedì di stop prima di tornare a parlare di cose biancoverdi, di Menzana un sharing ieri purtroppo nettamente sconfitta in quella di Casale Monferrato 90-60 il punteggio finale della partita giocata dalla Menzana contro la Novi Più una partita che non ha avuto grande storia, fatta eccezione per un discreto inizio da parte della squadra di Moretti poi si è vista tutta la differenza esistente in questo momento fra le due contendenti con l'aggiunta dell'infortunio di Tommaso Marino che sicuramente ha complicato il piano partita della formazione senese di questo e di altro parleremo come sempre con, vado a presentarvelo anche se non ce ne sarebbe bisogno Mauro Bindi che saluto e ringrazio con i postumi del palio straordinario, postumi positivi ovviamente diciamo effetti, i postumi forse sono più quelli del sottoscritto e poi assieme a noi stasera Stefano Salvadori firma della Nazione Buonasera Allora, direi per iniziare a entrare proprio nell'argomento che ho accennato ovvero di questa sconfitta 90-60 in quella di Casale Monferrato per la on sharing Menzana di andare a vedere il servizio sulla gara realizzato per noi da Tommaso Mandriani Dopo due convincenti affermazioni che avevano tolto immediatamente il segno meno alla classifica la on sharing Menzana Siena perde la prima partita della stagione al Pala Ferraris di Casale Monferrato Contro i dominatori del girone ovest dello scorso anno Siena viene spazzata via con 30 punti di disavanzo 90-60 il punteggio finale per i padroni di casa Questa volta la rimonta non è riuscita ai ragazzi di coach Moretti Partita subito in salita per i biancoverdi che perdono il capitano Tommy Marino dopo soli 2 minuti e 50 secondi di gara Dopo una tripla segnata con fallo nel ricadere mette il piede sopra quello dell'avversario con conseguente torzione della caviglia Il numero 8 esce dalla contesa e non vi farà più il ritorno Nei prossimi giorni sono attesi aggiornamenti dallo staff sanitario della società Priva del suo regista, capitano e leader, la Menzana subisce l'energia dei Casalesi che con un parziale di 16-0 propiziato da 5 punti di Martinoni e dalle giocate degli americani Pinkins e Tinsley si portano sul 26-15 prima del canestro di Poletti che conclude il primo quarto Moretti pesca dalla panchina ed ottiene ottime risposte soprattutto dagli esterni Tre canestri da oltre l'arco del solito efficacissimo Prandin e la bomba di Sanguinetti danno a Siena il nuovo più uno 37-36 Nel mezzo il giovane Ceccarelli all'occasione per mettersi in mostra con 4 punti in fila che avevano fatto tornare i suoi per due volte a un solo possesso di distanza Poi il momento forse decisivo del match, break di 10-0 della 9 più con due triple di Valentini a chiudere il secondo quarto, 46-37 il punteggio Nel terzo periodo Siena prova a tenere botta ma il fallo antisportivo fiscato a Moraes permette a Casale di scappare sul più 13 Pinkins, 21 punti in 25 minuti alla fine con 7 su 9 da 2 e 9 rimbalzi continua in perterrito a lavorare a fianchi la difesa bianco-verde Il meno 26 di fine terzo quarto si trasforma anche in un meno 34 nel quarto che non lascia a scampo Moretti concede un po' di fiato ai suoi uomini chiave in vista del turno infrasettimanale contro Latina fra tre giorni Gli unici bianco-verde in doppia cifra alla fine sono Pecker 13 punti e Prandin con 10 La serata di Moraes è pessima, 1 su 8 da 2 e 1 su 6 da 3, frutto di tante troppe forzature Siena tira tanto da 3, 10 su 30 e malissimo da 2, 10 su 36 per un modesto 28% L'unica nota positiva è rappresentata dal fatto che fra 72 ore soltanto si torna in campo Per provare a cancellare subito l'opaca prestazione Se con o senza Marino lo scopriremo nelle prossime ore Allora, vediamo di scoprirlo subito perché c'è qualche piccolo aggiornamento, no Stefano, sulle condizioni di Tommaso Marino Gli esami che è stato sottoposto stamani non hanno evidenziato lesioni Quindi si tratta di provarci Il giocatore è comunque arrivato al palazzo con le stampelle prima dell'allenamento Però si tratta di vedere quanto dolore avrà e eventualmente di forzare e di provare comunque a dare un contributo Dipenderà tutto dal dolore che avrà lui tra domani e mercoledì eventualmente Però comunque la notizia importante è che gli esami hanno scongiurato lesioni Cambia molto Mauro nell'ottica della prossima partita Però rimaniamo ancora sull'argomento Casale-Monferrato Sicuramente un conto è impostare una partita con Tommaso Marino Altra cosa, con tutto il rispetto per chi poi ne ha preso il posto Parliamo dei vari Prandin, Sanguinetti Altra cosa è dover ridisegnare la squadra senza il capitano Che poi è il giocatore sul quale la squadra sotto certi aspetti è stata costruita anche dal punto di vista tecnico Non soltanto affettivo con la piazza Sono perfettamente d'accordo Il problema è che Marino è chiaramente un giocatore che non sempre riesce a entrare perfettamente in partita Però è un giocatore che poi sa illuminare o con una giocata o con un assist o con un tiro ovviamente una partita Dio Semenza è un giocatore importante per questo Penso ancora, non abbiamo visto ovviamente il vero Tommaso Marino Però già in queste partite ci ha fatto vedere che piazzare quel canesto, quell'assist Diventavano decisivi per le sorti della menzana E probabilmente anche questa è mancata Anche se poi in generale nella partita di ieri di Casale Onestamente ci sono state tante mancanze oltre a quella di Marino I tre minuti sono veramente pochi, quelli che lui è stato in campo La squadra aveva trovato anche degli assetti Tutto sommato più che accettava nell'arco del primo tempo Però è mancata tanta determinazione, tanta volontà di sopperire all'assenza importante come quella di Marino E ovviamente poi la lunga e lo strapotere di Casale è parso evidente Anche perché Casale è una squadra che viene da una stagione importante Indubbiamente ha messo dentro giocatori giovani molto interessanti Sicuramente è una squadra che continua sul sulco della scorsa stagione Indubbiamente ieri ha fatto vedere che è molto amante rispetto a un cantiere Come secondo me continua ad essere la menzana Stefano, abbiamo intanto rivisto le immagini dell'infortunio di Marino La prima partita l'abbiamo trasmessa ieri pomeriggio in diretta Come tutte le gare in trasferta da qui a fine stagione della home sharing menzana Saranno in diretta sul canale 3 Toscana L'argomento Marino sicuramente è un argomento importante L'assenza ieri di Marino fatta eccezione per i primi minuti Detto questo si è visto un po' di spirito e di atteggiamento in difesa Nei primi due periodi poi la squadra oggettivamente ha fatto una brutta prestazione Da salvare guardando le cifre forse il solo Packer Cito un esempio invece di partita non positiva Tutt'altro che positiva quella di Carlos Moraes Sì sono d'accordo aggiungerei secondo me da salvare anche per Andin Perché finché la partita è stata vera ha giocato molto bene Poi ovvio si è trovato spesso il pallone in mano A dover prendersi delle responsabilità che in realtà non avrebbe E quindi poi nel secondo tempo ha sbagliato un po' di più Però secondo me la sua partita è nel complesso da salvare Moraes di fatto è stato assente come Marino Marino perché si è fatto male Moraes perché ha giocato una pessima partita Ha tirato male soprattutto ha fatto delle cattive scelte in attacco Che come si sa insomma quando un tiro è ben costruito Anche se lo sbagli magari hai più possibilità di andare al rimbalzo I tiri che si prendeva Moraes davano la possibilità a Casale di prendere il rimbalzo Di rimettersi in moto, di fare contropiede e trovare punti facili Quindi è sicuramente una della sua peggior performance In realtà fino agli ultimi 4-5 minuti non aveva giocato benissimo Neppure le prime due partite Poi però le aveva vinte da sola a Tortona e vinte in buona compagnia con Rieti Quindi gli era stato perdonato tutto A Casale non ha avuto il tempo di rifarsi Speriamo che insomma dopo domani con Latina possa subito riscattarsi E farci vedere qualcosa di buono Dico una cosa, sinceramente su Moraes il problema forse può essere Che cominciano a conoscerlo un giocatore con certe caratteristiche Molto isolamento, se con le sue preparazioni trova l'aria intasata Come spesso le è capitato ieri è probabile che Moraes potrà avere dei problemi Per questo dico io il cantiere della mezzana è reale E non mi piace sentire parlare in termini di Moraes Se ne in termini entusiastici come giustamente si vedeva fare Dopo le due partite e le prime due Ne avere dei giudizi troppo negativi con lui in questa partita Chiaramente deve capire che forse Doran poi proprio per quello che è riuscito a fare Nelle prime due partite forse su di lui Le squadre come in quest'asso si vede benissimo Tenderanno sempre a bloccarli Soprattutto le traiettorie nelle sue scorribande verso il canestro In quest'asso vi siamo retti che lo stesso giocatore Dovranno trovare qualche alternativa perché altrimenti la mezzana Veramente si scontra contro un muro che è quello che abbiamo visto anche contro Rieti Per fortuna poi la partita è andata in una certa maniera Però questa è una incidenza tata e probabilmente avrà sempre più peso Nelle partite della mezzana Mauro ha citato poco fa Paolo Moretti Noi andiamo proprio a sentire quello che Paolo Moretti ha dichiarato in sala stampa Alla fine della partita di Casale Monferrato Abbiamo perso in maniera netta e ovviamente fa male Perdere fa male, perdere nettamente fa ancora più male Ma oggi la vera grande batosta l'abbiamo presa Perché abbiamo perso il primo e il terzo playmaker del mio roster Perché insomma proprio nella settimana in cui giocheremo tre partite E praticamente insomma ora lo valuteremo, valuteremo la situazione Ma questo è oggettivamente il pugno in pancia più grande Della partita devo dire che il primo quarto ci siamo entrati un pochino sotto ritmo Anche se i meriti di Casale nel primo quarto secondo me sono più grandi dei demeriti Però in questo tipo di partite contro questo tipo di avversari Come si attacca fa tutta la differenza del mondo Perché poi vuol dire anche avere una difesa equilibrata E quindi non concedere una delle caratteristiche Delle qualità più importanti della squadra di Casale Credo che nel secondo tempo siamo riusciti ad avere dei buoni ritmi offensivi Con la giusta bilancia Allora li abbiamo costretti un pochino più a metà campo E questo ci ha portato anche a mettere di nuovo la testa avanti Dopo essere partiti molto bene Mi sembra sul più uno a poco più di un minuto dalla fine E credo che lì ci sia stata la chiave della partita Nel senso che abbiamo preso un 10-0 in un minuto mortale Poi dopo l'intervallo siamo lentamente scomparsi del campo E quindi è venuta fuori tutta la squadra di Casale Che ci ha battuto nettamente Devo dire nel quarto quarto poi sul meno 26 C'è stata una rotazione di sopravvivenza per la partita di mercoledì Che ripeto già la giocheremo con delle probabili assenze importanti Quindi c'è stato un minimo di conservazione Ma alla fine la partita si era decisa già a mio avviso Nell'ultimo minuto del secondo quarto E poi ovviamente nel terzo in cui il gap è diventato netto e decisivo Nelle rotazioni di conservazione Vi chiamo in causa un po' tutte e due Così le ha definite Paolo Moretti Da segnalare in positivo l'ingresso di Leonardo Ceccarelli Che si è fatto vedere che fra l'altro pure lui non era in grandi condizioni Sì c'aveva questo problema mi sembra l'inguine Però mi sembra che l'ultimo aggiornamento poi Stefano sarà più dettagliato Deve essere allenato regolarmente secondo le notizie che giungono Per cui rispetto a quello ha detto Paolo Moretti Se ne mette intanto il terzo play dovrebbe essere agli ordini del suo coach Però indubbiamente Ceccarelli nel momento in cui è stato in campo Ha dato secondo me un'ottima impressione di se stesso E questo è importante prima di tutto perché Paolo Moretti è un alleatore Che non ha scrupoli in questo senso a far giocare chi è in condizione di farlo E l'abbiamo visto al di là di ieri Tanto garbage time Però indubbiamente è uno che non ha paura a mettere dentro i giocatori Per cui ritrovarsi comunque un ragazzo motivato Che comunque ha anche delle buone qualità Io direi anche delle buone qualità soprattutto al tiro Perché ieri si è preso un tiro molto difficile E lo ha messo con grande autorevolenza Per cui è un giocatore importante che allunga le rotazioni E per la Menzana sicuramente è una cosa molto 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 importante Ceccarelli Stefano che poi fra l'altro è l'unico se non sbaglio Prodotto effettivamente del vivaio Menzana che in questo momento è in prima squadra Sì fra l'altro il tiro a cui faceva riferimento Comunque era una fase calda della partita Perché eravamo nel secondo periodo E' stato il più uno Sì sì ecco il ragazzo ha dimostrato di esserci con la testa E questo è importante perché già dopo domani ci potrebbe essere bisogno Perché sappiamo che Marino non è al meglio E poi anche in futuro eventualmente potrebbe rivelarsi molto utile Ebbene insomma prendiamoci anche queste piccole note positive Che sono molto importanti Seppur a margine di una serata Che è stata una brutta serata da parte della Menzana Targata On Sharing Noi ci prendiamo intanto invece una piccola pausa Poi torniamo a parlare sia della partita di ieri a Casale Sia di cose bianco-verdi a 360 gradi Parleremo anche di vicende societarie E poi ci proietteremo verso la prossima partita Lo ricordiamo La Menzana torna subito a giocare Mercoledì sera proprio al Palaestra Alle 20.30 contro Latina Pubblicità Grazie a tutti